Ciao a tutti, eccola nell'art che ho fatto per il concorso di Madda Fashion. Questo è il pollice. Il pollice su cui ho deciso di scrivere sopra il nickname di Madda Fashion. Questo è il mio nuovo video, ho scritto sul mio thumb il nome di Madda Fashion per il contesto del contesto. Questo è l'art che ho fatto, e poi prenderò l'adda. Sorry for my English, but usually I speak Italian. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.